Anasca, ma quanto ci metti a iscriverti? Stai qua da mezz'ora? Stefano Oddi, un padre preoccupato. Buongiorno, assolutamente no, guarda. Adesso per la sua... I due partecipanti della fascia 12-14, se vogliono proseguire poi per fare la stalla, e lo so che già Chiara resta, potete restare, se vuoi restare, ok. Le prime sei partite sono quelle valide per il campionato. Ok, adesso accendiamo le piste, avete 5 minuti di prova. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Marco? 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 Grazie. Ricordo a tutti gli spettatori di fare un chifo gauroso in maniera che si senta... ... Ok, adesso ho detto di chi repare, un buon giorno a tutti. Grazie a tutti. Dai che si chiude Flavio, levati i capelli davanti agli occhi e tira. Grazie a tutti. Bravo Marco! Sembravi i maddaloni allo specchio. Grazie. Brava! Ammazza! Bellissimo! Un piccolo capolavoro. Un piccolo capolavoro. Un piccolo capolavoro. Un piccolo capolavoro. Abbiamo rotto il ghiaccio. Grazie. Marco, tira da sinistra, tutto da sinistra, prova, da qua, capito? Sì, tutto da sinistra. Grazie. Grazie. Oddio. Lo Sper e lo Sper. Cosa? Lo Sper, lo Sper. Presentiamoglielo. Flavio ti voglio presentare lo Sper, così ci fai amicizia. Grazie.